Dottore, qual è il segreto dell'eterna giovinezza? Per informazioni, chiedere ad Angelo Satalino. Dall'alto delle sue 38 primavera, infatti, il capitano indiscusso del Fuzz al Bitonto 2019 è la vera, pulita ed indiscutibile testimonianza dell'eterna giovinezza. Lo vede arrivare assieme ai suoi compagni in un qualunque palazzetto di Puglia e pensi alla classica figura a fine carriera che non vuole accettare il proprio destino. Poi lo vede scendere in campo e la sua storia d'amore con questa disciplina è a dir poco contagiosa. Corre come un forse nato nel rettangolo di gioco, chiude tutti gli spazi con l'eleganza da giocatore levigato e dall'occorrenza si trasforma anche in uomo gol. Un po' come è accaduto nell'ultima sfida di campionato in cui ad inaugurare le danze è stato proprio il capitano nero-verde con una delle specialità della casa, il sinistro al volo sul secondo palo. Un gol da Cineteca il suo che le valse fino a questo momento la sesta retta in stagione. Ma il segreto di questa eterna giovinezza non è tutto qui. È un qualcosa che prende forma nella quotidianità, stile di vita regolare, cura dell'alimentazione ed una totale dedizione al lavoro durante gli allenamenti settimanali. Ingredienti questi che mescolati tutti assieme il sabato pomeriggio fanno del capitano nero-verde un professionista a 360 gradi. Se a questo poi andiamo a sommare l'indiscusso spessore umano della persona, non possiamo che definire Angelo Satalino un autentico esempio da seguire per chi ama questo sport. Perché alla fine l'essenza è tutta lì, in una corsa perdiciata sulla fascia, nella coordinazione migliore per colpire la palla che arriva prima e che poi muove la rete, nel vuoto del pubblico e nella corsa sfrenata ad abbracciare moglie e figlio presenti in tribuna. E allora, dottore, forse sì, è proprio racchiuso in quei momenti di il segreto dell'eterna giovinezza.